La cosa che per me, almeno a quanto riguarda me ha scosso, è la loro tranquillità, la loro serenità. Cioè questi ragazzi avevano appena ucciso un bambino di 5 anni, erano qui, che ridevano e pensavano a fare un video. Tra i quali è successo che in quel momento arrivava un papà di un bambino di classe come me, è arrivato prima. Un compagno di classe di Manuel. Un compagno di classe di Manuel e quindi questo ragazzo si è arrabbiato perché li ha visti sorridenti e sembra che uno di questi stesse facendo un video. Il parapiglia dopo è successo perché questo ragazzo sembra che ha tirato fuori il telefono e ha cominciato a postare quando Manuel era a terra. Quindi questa è la cosa che secondo me deve emergere in questo momento. Cioè questi ragazzi erano sereni, nessuno ha pianto, nessuno ha tirato fuori una lacrima.